buonasera a tutti come vedete sono sono a casa e faccio questo video perché ho delle novità importanti riguardo al punto nascita cosa abbiamo scoperto abbiamo scoperto grazie ai contatti che abbiamo con il segretario del del ministro grillo che la regione marche ha deciso deliberatamente di chiudere il punto nascita e l'ha deciso non adesso non ieri ma deciso nel 2018 quando ha compilato le schede lea per la valutazione del livello di efficienza delle strutture ospedaliere dichiarando di aver prodotto l'atto formale di chiusura del reparto in seguito al parere espresso dal comitato percorso nascita nazionale la regione poteva scegliere non era obbligata perché come ho già spiegato ieri il parere del comitato percorso nascita non è vincolante e in effetti nel questionario che la regione deve compilare ogni anno per essere valutata si legge chiaramente si legge chiaramente questo è il punto a a f 2.2 nel caso in cui la deroga sia stata richiesta il comitato percorso nascita nazionale ha dato parere favorevole sì no nel caso in cui il parere del comitato percorso nascita nazionale sia stato sfavorevole la regione ha provveduto con atto formale chiudere il punto nascite sì no in caso di risposta affermativa inviare l'atto formale di chiusura significa che la regione poteva scegliere di non chiudere il reparto la ha scelto deliberatamente di farlo l'ha fatto non ieri non altro ieri ma nel 2018 e già a dicembre 2018 era stato tutto deciso e quindi il presidente ceriscioli in questi giorni ci ha raccontato un mare di menzogne le solite menzogne che ci racconta ormai da anni come ci ha raccontato in questi giorni anche sulla quadrilatera organizzando quella riunione carbonara di massoneria soltanto con chi voleva lui escludendo tutti i rappresentanti locali e per i quali il i comitati di locali come la conf commercio la la cna e conf industria si stanno ribellando per la modalità che è stata utilizzata perché hanno escluso tutti chiamando soltanto chi volevano organizzata a fabriano senza interpellare nemmeno un sindaco nemmeno il sindaco della città che li ospitava facendo prenotare la sala non dalla regione ma dall'assur è un atteggiamento vergognoso adesso noi approfondiremo verificheremo se così fosse il presidente ceriscioli si deve dimettere domani mattina non può aspettare oltre perché mentire ai cittadini è una cosa vergognosa lui già da due anni dice già due anni fa aveva detto che il suo obiettivo era mantenere un solo punto nascita per ogni provincia ci sta riuscendo ma ci sta riuscendo mentendo ai cittadini è un atto inaccettabile è un atto di forza nei confronti cittadini veramente vergognoso e ognuno si deve prendere le proprie responsabilità perché quando le persone mi dicono state facendo scaricabarile no non stanno facendo scaricabarile stiamo cercando i responsabili perché in questo paese siamo stati abituati per troppo tempo a non cercare responsabili a far finta di niente e responsabili poi li abbiamo trovati promossi per incarichi superiori deve finire questa storia se ceriscioli ha commesso questo si deve dimettere domani se non lo fa noi dobbiamo andare in regione sotto la regione ma non in 50 e 60 dobbiamo andare la in 20 mila a rappresentare tutto il territorio dell'entroterra marchigiano allora adesso io cerco di calmarmi perché altrimenti rischio di dire cose che non è il caso che io dica cercherò di approfondire ulteriormente ma ho già avuto la conferma che questa interpretazione che abbiamo dato è quella reale quindi ripeto la regione ha scelto deliberatamente di chiudere il il reparto ostetricia dell'ospedale di fabriano e l'ha fatto a sua coscienza e nera conoscenza quindi e già dal 2018 era tutto deciso a dicembre 2018 il nostro reparto era stato già condannato a morte dalla regione la comunicazione di cui parla ceriscioli che ha ricevuto non è stata mandata non è una comunicazione del ministero non è una comunicazione del comitato percorso nascite nazionale ma un comitato è un comunicato del comitato lea che ha preso atto delle comunicazioni che la regione gli ha mandato è un atto veramente gravissimo e io spero che tutti quanti capiscono la gravità di questo non soltanto a fabriano ma a livello regionale e nazionale un presidente di regione non si può permettere di prendere in giro i propri cittadini stavo per dire altro fortunatamente mi sono bloccato e cercheremo di tenervi aggiornati forse ho parlato un po di impeto ho pensato anche di fare domani questo comunicato questa comunicazione ma non riuscivo a tenermela e ripeto è un atto veramente veramente gravissimo che non avrei mai creduto di dover dover commentare vi terremo aggiornati e dobbiamo capire a questo punto oltre la responsabilità se c'è un modo per tornare indietro e per far recedere la regione della sua la sua decisione è una è una decisione della regione marche una decisione della regione marche